Chi conosce in profondità si sforza di essere chiaro. Chi vorrebbe sembrare profondo alla moltitudine si sforza di essere oscuro. Frederick Nietzsche Ciao a tutti amiche ed amici, benvenuti o bentornati. Ci poniamo mai la domanda ma quanto è vera la mia vita? Provate sinceramente a rispondervi, provate onestamente ad elencare quante e quali delle cose che pensiamo, diciamo, postiamo, riferite a situazioni, ancora di più alle persone sono veramente, inequivocabilmente così come noi le proponiamo. Quante volte ci siamo presi la briga di verificare se una certa persona, situazione fosse assolutamente così come la vedevamo o era solo la nostra percezione, magari legata a simile esperienze passate? Quante volte abbiamo scelto di approfondire invece di etichettare subito e dandolo anche come linea di condotta generale e assoluta? Marcel Proust ha detto Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue. Nella spasmodica corsa ai like, alle piacevoli espressioni glorificanti ed i consensi sicuramente sinceri dei social, ci dimentichiamo e allontaniamo ogni giorno dai prerequisiti necessari per la vita di ognuno di noi. Queste sono le risposte alle ataviche domande Chi sono io? Come vedo gli altri? Senza chiarire con assoluta certezza ed onestà chi siamo, cosa vogliamo, quali sono i nostri desideri ed i nostri sogni e tutte queste belle domande, ogni cosa che faremo nella vita o sarà superficiale e quindi mai appagante o sarà il seguire gli altri e quindi sicuramente frustrante. Qual è l'effetto di queste scelte? Che anche in modo del tutto inconscio ed impercettibile, tutto e tutti saranno sempre più negativi, banali, incomprensivi, stupidi. Ovviamente quello che facciamo noi, come detto poco fa, nemmeno lo vediamo o lo interpretiamo allo stesso modo. Voltaire ha detto Ogni legge deve essere chiara, uniforme e precisa. Interpretarla significa corromperla. La chiarezza serve a noi. Bisogna capire chi siamo veramente e scegliere atteggiamenti, modi di comunicare, di vivere e che siano coerenti con quell'io. A questo livello non è nemmeno importante che sia bello, brutto, buono o cattivo, ma che sia vero. Se si mostra una parte di noi che non corrisponde e ci si ostina a pretendere di essere considerati così, quando non è vero, il risultato sarà solo sofferenza nostra e di tutti quelli che ci stanno intorno. La recita non ha vita lunga e non porta a nulla. La verità, anche quella considerata brutta, quantomeno ci darà un ritorno reale e anche se per poco e con poche persone, i momenti positivi saranno veramente positivi e non apparenti. Albert Comus ha detto L'inganno porta sempre conseguenze spiacevoli e se non ci importa dei danni collaterali che possiamo provocare agli altri, dovremmo ricordare che comunque i danni li arrechiamo soprattutto a noi stessi. L'autopromozione di quello che in realtà non si è, crea solo conflitto interiore perché la mente percepisce discordanza e va in confusione, ma non funziona nemmeno all'esterno perché prima o poi verrà fuori il vero io. Soprattutto se abbiamo pretese dagli altri, quando noi siamo invece carenti in una determinata cosa, ma ci vendiamo come pieni, allora la nostra credibilità e affidabilità crollano e rimarremo soli. Fushan Yuan ha detto Sono tre gli elementi essenziali nella leadership, umiltà, chiarezza e coraggio. Per essere leader in primis di noi stessi, dobbiamo ammettere quello che siamo e mostrarlo così com'è e non per un fatto di correttezza, ma per evitare di soffrire a vita. Nelle relazioni, per esempio, spesso si sentono persone a lamentarsi di non riuscire a trovare partner in grado di amare quanto amano loro e di fare quanto loro fanno per gli altri. Andando poi ad analizzare, si scopre che queste persone non amano gli altri per quello che sono, ma in funzione dell'amore che potrebbero ricevere e quello che fanno, la famosa frase do tutta o tutto me stesso, me stessa, ma non ricevo nemmeno la metà, anzi solo sofferenza. Lo fanno in funzione di quello che possono ricevere. Quindi non è amore, ma egocentrismo e anche egoismo, perché tutto è rapportato a loro ed è in funzione di loro e basta. Gli altri sono solo strumenti da utilizzare e non persone con le quali condividere. Come detto precedentemente, il problema non è la modalità giusto o sbagliato, ma la chiarezza. Se ci si mostra per quello che si è, chiarendo quello che si desidera, magari troveremo meno persone disposte ad assecondarci, ma quelle poche ci appagheranno veramente. Cosa assolutamente poco gradevole e anche stupida è pretendere che gli altri credano a quello che diciamo quando quello che facciamo, soprattutto quando cade la maschera, non corrisponde. Nessuno è tenuto a fare nulla, ma ognuno è responsabile delle proprie scelte e le relative conseguenze. Beppe Severnini ha detto Chi scrive chiaro sa scrivere. La semplicità non solo nella lingua è fatica e immisibile, ma porta vantaggi evidenti. Quello che scrivete come lo scrivete può cambiare la vostra vita. C'è un altro problema poi di questo atteggiamento che ci tengo a chiarire. Spesso scaturisce già da un conflitto interiore perché una parte di noi si vergogna o si intimorisce di mostrarsi per quello che è, pensando al giudizio altrui. Noi siamo quello che siamo e quando non siamo convinti di voler cambiare non dovremmo mostrarci diversi perché l'altro problema che può sorgere, anche se meno frequente, è che una parte di noi si convince veramente di essere come vogliamo apparire e il cervello, sempre per il famoso principio della coerenza, cercherà di supportare questa cosa. Tuttavia, non essendo un desiderio e non avendo sufficiente supporto emozionale, ci farà fare solo un ping pong continuo tra quello che siamo e quello che vogliamo mostrare, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, con un unico risultato, sofferenza, accompagnata da altre tante alternate emozioni negative che non portano altro che alla nostra distruzione. Meglio essere realmente e dichiaratamente cattivi che apparentemente buoni, che a cambiare una cosa reale c'è sempre modo e tempo, ma una irreale è l'unica cosa impossibile da poter fare. Ad ogni modo è importante identificare questa particolare condizione e porvi rimedio, con chiarezza ovviamente. Sigmund Freud ha detto, nell'impossibilità di poterci vedere chiaro, almeno vediamo chiaramente le oscurità. Ciao e alla prossima.